Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per giocare Luffy Gear 4 Snakeman uscito su One Piece Fighting Path. Quindi adesso noi ci andiamo a fare i nostri training per sbloccare il personaggio in modo free to play. Chiaramente non ho tutti i frutti per prendere il personaggio garantito, quindi non avendo tantissimo tempo per giocare a Fighting Path sarà un po' dura. Però raga, almeno io so che il personaggio possiamo farvelo vedere lo stesso senza nessun problema. Ok, sono pronto, siamo pronti. Ok, questo qua è il PG. Direi che come modello hanno fatto veramente un bel lavorone. Ok, allora iniziamo con le combo basi. Ok, questo è il combo base, va bene. Ok, adesso... No, l'ho sbagliata questa, allora un secondo. Minchia che figata! Ma cos'è che ho sbagliato qua? Qua ho sbagliato qualcosa. Allora, vediamo. Ok, adesso... No, perché dopo mi dice ancora di schiacciare quello lì. Allora... 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 ok ce l'abbiamo fatta adesso questa qua la seconda che ha uno slancio in avanti va bene bellissimo 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 ok prossima combo vediamo bellissimo mamma mia che gioco assurdo ma perché non lo fanno global sto gioco qua ma perché non lo fanno global questa qua non è la mossa finale però ok tipo jet gatling ok va bene fighissimo mamma mia quanto è figo raga quanto è figo mossa finale via è figo è figo non so se sia rotto su questo non mi sono informato però è figo ok qua possiamo scatenarci un po vabbè ci stava ok adesso invece dobbiamo affrontare il boss dove lì non è più un tutorial e possiamo giocare come vogliamo gg gg bello 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 cavolo se bello minchia raga pic pic wow wow ok adesso invece qua ci possiamo un po sbilizzarirci e possiamo usare il personaggio in modo completamente gratuito ok let's go ah il nostro avversario è luffy gear second va bene ok va bene mi ha confuso ok ok è iniziato aggressivo ma adesso dobbiamo fargli capire qual è il gear più forte mamma mia chissà quando faranno luffy gear 5 che pg verrà fuori da roba assurde ok maledetto che figata cosa ho fatto raga adesso li facciamo a finale raga adesso li facciamo a finale che grafica assurda che grafica assurda che grafica assurda raga mamma mia bello bello signori tutorial di luffy gear 4 snake man finito adesso abbiamo sbloccato il personaggio in modo free to play fino alla fine della durata del banner e che dire raga che dire non vedo l'ora hype veramente tanto hype se questo video raggiunge un bel po' di like potrei magari portarvi degli showcase un po' più specifici del personaggio ma questo dipende ovviamente da voi noi ci vediamo con il prossimo video e alla prossima ciao raga